Presentati questa mattina a Palazzo San Giacomo, gli Stati Generali del Mare, un programma di iniziative e progetti che raccoglie in un unico calendario numerose attività legate al mare e dalla costa. È il primo comune che riesce in Italia a mettere a sistema una task force sul mare con l'obiettivo unico di condividere tutto il percorso per far ritrovare il mare alla città, ai cittadini e ai turisti. Riprenderci il mare con un lavoro paziente che poi vedrà attraverso anche i tavoli tematici l'accesso, la fruibilità, la potenzialità, la valorizzazione, il rafforzamento della risorsa blu. Per la prima volta in questa città c'è una strategia sul mare che mette insieme tante istituzioni, forse tutte, che mette insieme tantissime associazioni, tantissima gente e il mare sta diventando sempre di più una ricchezza culturale, economica, sociale e di vita dei nostri territori. Abbiamo presentato il programma di ottobre e novembre da San Giovanni a Bagnoli, passando per il centro, per Posillipo, per la Gaiola, per Castel dell'Ovo. È davvero entusiasmante vedere quante proposte, sono tutte iniziative accessibili ad ognuno che voglia, gratuitamente. Passeggiate, visite didattiche, laboratori di educazione ambientale, iniziative culturali e di promozione sociale. Eventi gratuiti da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio per un ampio calendario distribuito fra ottobre e novembre. La rinascita e il riscatto di Napoli passa molto attraverso il mare e anche gli obiettivi strategici stanno tutti qui, Bagnoli, la depurazione di San Giovanni, recupero della linea di costa, le tantissime iniziative sportive che si fanno sul mare, il molo San Vincenzo, il molo Beverello e potrei continuare. Anche domani, tra i vari argomenti, a Roma parlerò di Porto.